Un'esperienza bellissima, dei percorsi naturalistici davvero stupendi. Abbiamo delle montagne noi qui in provincia di Cuneo che pochissimi nel mondo ce le hanno. Sono invidiati da tutti, molti sono i turisti, moltissimi sono gli italiani. Bellissime sono queste strade, sono curate molto molto bene. Un grazie anche all'ATL che sponsorizza e cerca di portare in giro per il mondo il nome e i posti delle nostre bellissime vallate. Grazie.